Vinciamo, vinciamo e quindi bene così, ma non vorrei che passasse il messaggio che si sia fatto qualcosa che fosse oltre il nostro dovere. Questo qua è stato esattamente il nostro dovere, adempiuto in pieno, ma nulla di più. Nulla di più perché vinci di misura contro un'Albania impresentabile, che fa un gol soltanto perché tu dormi e scendi in campo con 30 secondi di ritardo. Per il resto, sì, fai un ottimo primo tempo, ma non la chiudi. Quindi rischi, o meglio, hai la possibilità, diciamo, di soffrire fino alla fine perché non riesci a fare il 3-1. Per me fai una partita sufficiente, nulla di più e non è una cosa per forza negativa. Ci mancherebbe altro perché molto spesso chi parte male chiude bene. Quante volte è successo che la nazionale campione non sia partita bene? Ma non vorrei che, perché ho sentito anche rimedio in telecronaca, che esaltava questa Italia, il palleggio, il gioco. Sì, un primo tempo discreto dopo il gol, dopo il disastro, ma poco altro. Quindi andiamoci piano. Però prima di parlarne, come sempre, iscrivetevi, lasciate tanti like e tanti commenti qui sotto e seguitemi anche sui altri social. Detto questo, allora, partiamo dall'inizio proprio. Un avvio shock. Un avvio shock e, secondo me, imbarazzante perché non puoi sbagliare in quel modo dopo 30 secondi. Una dormita difensiva clamorosa. Arriviamo anche al discorso sul blocco Inter, che comunque io confermerei. Io confermerei. Poi buona la reazione perché comunque c'è un'Italia che reagisce e quello mi piace perché che potevi anche buttarti giù, potevi anche crollare psicologicamente, invece no. Invece rimani sul pezzo, invece continui, o meglio, cominci ad attaccare, lo fai molto bene, lo fai instancabilmente e riesci comunque in cinque minuti a farne due. Il problema non è, secondo me, la fase successiva al gol, è la fase successiva al 2-1 perché dal 2-1 a fine primo tempo attacchi tanto, hai diverse occasioni. Frattesi è ok, mettiamoci che è un miracolo di Stragoscia, però davanti alla porta Frattesi se l'è mangiato. Idem Scamacca ancora peggio perché gliel'ha proprio tirata addosso e perché Scamacca è il bomber. Pellegrini di spalla, la rovesciata sbagliata. Comunque, manca il cinismo, però quantomeno crei. Nel secondo tempo neanche quello, ritmo bassissimo, veramente bassissimo, come se la squadra fosse già stanca e siamo alla prima, siamo alla prima, perché non è che ne hai fatte già 10 di partite in 20 giorni e sei stremato. La prima partita dell'europeo è già così contro, vi ripeto, una squadra che non è quasi una squadra perché io me lo immaginavo, io che vi ho detto 2-1 Italia, me lo immaginavo che comunque non avremmo vinto in maniera larga, ma non perché sopravvalutavo l'Albania, quanto perché conosco i limiti di questa Italia e perché sapevo che comunque non avremmo mai fatto goleade. Ma l'Albania è poca cosa, è veramente poca cosa come squadra a livello tecnico, a livello di gioco, tutti dietro senza un minimo, senza uno straccio di idea offensiva. Vi ripeto, il gol che fanno io lo classificherei quasi quasi come un nostro autogol, perché è un autogol e adesso arriviamo anche al discorso sul blocco Inter, che ve lo dico a fare, la gente non vedeva l'ora appena, appena fa gol l'Albania, subito per buttare fango su Di Marco, su Bastoni, dimenticandosi che non vestono la maglia dell'Inter o del Milan o della Juve, ma quella dell'Italia. Però al di là di questo, io confermerei il blocco Inter, a perché si sono riscattati tutti comunque, chi col gol, chi col assist, perché la partita viene decisa nel bene o nel male da quelli dell'Inter, punto. E due perché per me è fondamentale, fondamentale lì dove è possibile dare un minimo di continuità a quella che è la squadra, a quella che è meglio, è l'impostazione del club. Per questo, per esempio, non sarei contrario affatto ad una difesa a tre, perché comunque tantissimi difensori nostri giocano a tre, perché giocare, ora, senza Cerby è vero che sarebbe un blocco Inter parziale, però che ne so, mettere i bastoni e darmi anche già in una certa intesa la vedrei come una mossa, diciamo, sensata. Quindi confermerei in totos, in toto, il blocco Inter, senza alcun dubbio. E che cos'altro? Vi stavo dicendo, quindi bene le occasioni nel primo tempo, male il cinismo, male il mancato cinismo. Andiamo sui singoli. Chiesa top player, Chiesa veramente top player, ragazzi. È l'unico, secondo me, insieme a Donnarumma, campione che abbiamo in rosa. O meglio, Donnarumma e Chiesa non sono campioni, mi spiego meglio, ma sono fenomeni. Campioni lo potrebbero diventare in futuro. Chiesa è un giocatore senza senso, secondo me, senza senso, ed è l'unica grandissima risorsa che abbiamo in attacco. Scamacca a me piace molto, ma Scamacca soffre della immobilite, a questo punto. Soffre di quella patologia che affligge qualsiasi centravanti vada a giocare con la nazionale. Immobile con i club, con la Lazio, era strepitoso, va in nazionale e fa ridere. Stessa cosa Scamacca che ha trascinato l'Atalanta in Champions, che l'ha trascinata sul tetto d'Europa, e in nazionale non azzecca nulla. Io, non lo so, spero che sia una fase momentanea, perché a me Scamacca piace moltissimo, però è anche vero che proprio non riesce, non riesce a essere nel vivo del gioco come invece lo è con i club. Chiesa è veramente un giocatore che, ok, vi ripeto, è l'Albania, è l'Albania che quindi è poca cosa, e sicuramente è più facile, però Chiesa l'ho visto benissimo. Chiesa l'ho visto benissimo, non ho visto bene in realtà la cabina di Legia, quindi Giorginio non mi è piaciuto, sinceramente. Anche perché giocavi contro una squadra che ti lascia tutto il campo del mondo, che non ti aggredisce, che è la squadra più passiva che abbia mai visto in un europeo. Gli ultimi 15 minuti hanno superato qualche volta casualmente la metà campo, ma fino ad allora nulla. Quindi mi aspettavo una regia di gioco abbastanza presente, importante, invece non c'è stata. La cosa importante comunque in queste competizioni che ci ha portato anche fino in fondo tre anni fa non è, secondo me, il partire in Pompamagna come la Spagna, come la Germania, non necessariamente almeno. Quante volte, vi ripeto, è successo che una squadra, anche l'Italia nell'82, partisse male e poi arrivasse fino in fondo. Succede molto molto spesso, quindi non è quello che mi preoccupa affatto. Anche l'Argentina con l'Arabia Saudita che perde la prima e poi vince il Mondiale in Qatar, no? Quello non mi preoccupa, ci sta, vi ripeto, ci sta vincere di misura. L'Italia non è una squadra forte, ma non è quello il problema. Le cose che non mi piacciono sono due. Il primo è proprio l'aspetto di pompare per forza l'Italia. Se gioca bene, volentieri. Se l'Italia batte 2-0 la Spagna, pompiamola. Ma se battiamo l'Albania in questo modo, che c'è da pompare? E il nostro dovere, nulla di più, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro, sarebbe stata da massacrare, mediaticamente, se non vincevi con l'Albania. Ma se vinci in questo modo, non hai vinto 6-0, vinci in questo modo, hai fatto soltanto il tuo, secondo me. Mio modesto parere. E poi, vi stavo dicendo, ok, non serve partire in pompa magna, non serve neanche essere fenomeni, serve il gruppo. E la mia domanda, che io faccio a voi, ma che mi sono fatto anche io, senza trovare poi una vera e propria risposta, la mia domanda è, l'Italia ha un gruppo coeso, come lo aveva tre anni fa? Boh, non ne sarei così sicuro. Non ne sarei così sicuro, sinceramente, secondo me il gruppo, ora potrei sbagliarmi, perché comunque questo è un aspetto che va visto alla lunga, a differenza magari della squadra, che va vista subito, che è un flash, la squadra o è forte o non è forte. Sicuramente il gruppo va visto alla lunga, però mi sembra un gruppo così, a occhio pago, pago sazio. Poi spero che comunque Spalletti ce la faccia, però. L'Italia, in ogni caso, batte l'Albania alla prima del girone, rischia fino alla fine un Donnarumma che ci salva, ma comunque vince questa partita, si porta a pari punti con la Spagna, in attesa proprio dello scontro diretto contro la nazionale spagnola. E con questo, passo e chiudo, iscrivetevi, like e commento qui sotto, che è fondamentale e sempre Forza Italia!